Arzegnano bussa con proiettili al sindaco, 50 anni e denunciato per minaccia aggravata. Campiglia d'Averici, alpini della protezione civile in Emilia Romagna, abbiamo trovato un disastro. Arzegnano, danni del maltempo, arrivati gli ultimi rimborsi, 200 mila euro per 20 beneficiari. Presidio dei lavoratori, della vigilanza privata a Treviso, tra le storie e quelle di una mamma, Vicentina. Farmaci veterinari abusivi, blitz denas, in otto allevamenti del Vicentino, 25 mila euro di multe. Montecchio Maggiore, anziana, sventa la truffa telefonica del falso incidente, si rivolge ai carabinieri. TG Vicenza, buonasera e ben ritrovati. L'avete sentito dai nostri titoli in apertura, parliamo di cronaca. In primo piano la cronaca stiamo ad Arzegnano, recapitata al sindaco, una busta contenente un proiettile, denunciato 50 anni e Vicentino. Il proiettile in una busta. L'intimidazione al sindaco di Arzegnano era accompagnata da un messaggio anonimo, scritto con lettere di giornale, per Alessia Bevilacqua. I carabinieri a tempo di record hanno individuato un 53enne di Arzegnano. E' lui l'uomo che avrebbe consegnato la busta con il proiettile di pistola calibro 45. Rintracciato dopo poche ore dai militari, grazie alle descrizioni dei dipendenti del comune, è stato fermato accanto alla sua abitazione. Subito è scattata la perquisizione della casa, i carabinieri hanno trovato in un cassetto in cucina una pistola scacciacani senza il tappo rosso, contenente sei cartucce forate in ottone. A quanto pare sarebbe stato trovato e sequestrato materiale di interesse riguardo all'intimidazione. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e mentre si attendono gli sviluppi investigativi, il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Arzegnano, Enrico Marcigaglia, esprime tutta la sua preoccupazione. Quello che io chiedo per la sicurezza di Alessia ma anche per l'intera comunità è che questa persona venga messa immediatamente nelle condizioni di non essere più pericoloso né per il sindaco né per l'intera cittadinanza. Secondo me questo è un passaggio ulteriore che bisogna assolutamente fare. Apriamo ora la pagina politica, torniamo a parlare del ballottaggio a Vicenza. Facciamo un'analisi del voto insieme ai due candidati. Iniziamo dal centrodestra con Francesco Rucco. Il grande flop dei partiti di centrodestra. A Vicenza Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia perdono consensi e tutti insieme fanno il 19,86%. In tre valgono meno della sola lista del sindaco Francesco Rucco che si ripete al 24%, un risultato lusinghiero per una civica perché a cinque anni di distanza riesce nell'impresa di bissare il successo del 2018 e di confermarsi come forza politica più votata in città. Insomma, questa tornata elettorale nei numeri dice che non è Francesco Rucco a essere stato sostenuto dai partiti di centrodestra, ma l'esatto contrario, è lui che ha sostenuto il centrodestra. Adesso però al ballottaggio toccherà Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dare un segnale. L'analisi del voto si basa su dati oggettivi, un grande risultato della lista civica Rucco Sindaco, un attestato di fiducia e ringrazio per questo i vicentini di una conferma rispetto ai risultati del 2018 che sono sostanzialmente identici. Quindi una forza trainante civica di una coalizione che adesso, formata dai partiti, deve correre pancia a terra in tutti i quartieri, persona per persona, spiegando ciò che abbiamo fatto per la città e ciò che andremo a fare per la nostra città, per il futuro. L'avete sentito, abbiamo analizzato cosa è mancato al centrodestra e ora esaminiamo luce ombre della coalizione di centrosinistra che sostiene Giacomo Possamai. Sicuramente abbiamo fatto un buon risultato, siamo andati al di là di quello che pensavamo e che ci aspettavamo, dopodiché siamo consapevoli che adesso inizia un'altra partita. Un buon risultato! Giacomo Possamai è soddisfatto per il primo turno. Francesco Rucco si è fermato al 44,06% mentre lui è arrivato al 46,23%. Anche dalle sue parti però ci sarebbe poco da esultare perché al flop dei partiti di centrodestra fa da contraltare il flop dei partiti di centrosinistra con il PD che alle amministrative del 2018 era al 23,88%, alle politiche di otto mesi fa era al 21%, mentre in queste elezioni è calato al 14,66%. Insomma, l'effetto Elish Line non è pervenuto, a meno che non sia questo e allora non sarebbe un grande successo. Tanto più se si considera che il Partito Democratico, per vincere a Vicenza, ha investito sul proprio capogruppo in consiglio regionale che con la sua lista, Possamai sindaco, ha però raccolto il 13,1%, la metà, poco più della metà, della civica di Francesco Rucco. In effetti, nonostante il suo calo, il PD, tra tutte le forze a sostegno di Possamai, è quella che ha dato al candidato di centrosinistra più voti, il 14,66%, più di quanto Fratelli d'Italia, il primo partito italiano, abbia dato a Rucco. A questi voti bisogna unire quelli degli altri partiti. Europa Verde e Sinistra Italiana hanno conferito al candidato di centrosinistra un ulteriore 5,3%, mentre Azione con Italia Viva hanno sommato il loro 3,51%, totale 23,47 punti, che significa che Possamai prende dai partiti appena più della metà del suo risultato totale. L'esatto contrario di Rucco, che invece con la sua lista civica da sola, prende più di quello che gli hanno dato i partiti. Insomma, i numeri dicono che è Francesco Rucco, che tra l'altro non ha tessere, il candidato civico, mentre Giacomo Possamai è il candidato più di partito. Ed il paradosso vicentino è proprio questo. I partiti calano, sì, ma a centrosinistra fanno ancora la differenza, a centrodestra invece è la civica a tenere in piedi la coalizione. Al ballottaggio il confronto sarà anche questo, liste civiche e partiti, che continueranno a sostenere i propri candidati. Chi emergerà alla fine? Ai vicentini, l'ultima parola. Chiudiamo la pagina politica, cambiamo decisamente argomento. Volontari dell'ANA, protezione civile, in partenza verso le zone alluvionate dell'Emilia Romagna. 40 comuni dell'Emilia Romagna in ginocchio a coprirli la distesa di acqua, melma, un evento epocale, l'alluvione che ha colpito una porzione vastissima di territorio, che fa i conti con un bilancio drammatico tra vittime e migliaia di evacuati. È qui che le squadre alpine della protezione civile, da Vicenza, Valdagno, Verona, saranno impiegate. A loro spetterà il compito di rimuovere il fango ai detriti. Mi hanno detto che c'è tanto da spagliare, quindi ecco questo penso che sia il nostro compito più o meno. Andiamo giù, previsto, però ci sarà molto lavoro da fare, ci sarà molta gente da aiutare, da star portare, da dare conforto. C'è chi tra loro è appena tornato da Imola, impegnato nella prima tranche dei soccorsi. Abbiamo trovato un disastro, adesso non sappiamo cosa troviamo perché la situazione è più critica di Imola. Qui siamo ai magazzini della colonna mobile nazionale Ana Protezione Civile di Campiglia dei Berici, in cui dalla sala operativa vengono coordinati i mezzi di soccorso da inviare. Si gestisce il reperimento dei volontari. Destinazione Forlì, dove da ieri sono già sul posto in 25. Oggi dal magazzino della colonna mobile nazionale partiranno appunto una quarantina di volontari con mezzi d'opera. Quindi scenderemo con bobcat e con escavatori, perché il tipo di intervento che ci è stato affidato a Forlì richiede la rimozione appunto di detriti, quindi queste sono le attrezzature che da oggi andremo a portare appunto sul posto. Siamo stati destinati appunto a una centrale elettrica a Forlì per poter poi far sì che venga ripristinata. Porteranno le macchine in movimento terra, bobcat e scavatori e poi sarà la volta delle pompe per lo svuotamento dell'acqua dai locali, mentre in Emilia resta l'allerta rossa per le piene dei fiumi e le frane. Successivamente a questo cominceremo a far affluire delle motopompe, da motopompe medie, per appunto poi cominciare a rimuovere anche, cioè a far rimuovere l'acqua, e poi pian pianino cominceremo probabilmente con motopompe più piccole e in caso poi sia necessario anche con dei moduli per fare la pulizia sia di strade che di edifici. E ora facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo a parlare della tromba d'aria che sconvolse Arzegnano nel 2020. In questi giorni sono arrivati gli ultimi rimborsi per 20 cittadini. Sono arrivati in questi giorni i contributi per risarcimento danni del maltempo del 2020 per le attività economiche. Sono circa 200 mila euro per 20 beneficiari che saranno appunto adesso distribuiti dal comune. Si conclude così il capitolo risarcimento per le spaventose conseguenze della violentissima tromba d'aria che nel 2020 provocò ingenti danni alle abitazioni, alle aziende e a molti edifici pubblici. Il capo dipartimento della protezione civile che ha nominato Luca Zaia, presidente della regione Veneto quale commissario delegato per la realizzazione degli interventi per superare l'emergenza ha approvato gli importi massimi e minimi concedibili per assegnare ai nuclei familiari e alle società colpite. L'amministrazione comunale allestì un punto di raccolta in municipio per agevolare i cittadini nella presentazione delle domande di rimborso. Si chiude così, diciamo, si chiude una vicenda appunto, un risarcimento diciamo legato a quella giornata di fine agosto dove la nostra appunto città è stata colpita dal maltempo con tanti danni alle abitazioni, alle attività economiche e anche a beni immobili. In totale diciamo che quindi sono arrivati per la nostra città circa 700 mila euro per 200 beneficiari. non copriranno tutti i danni che sono stati naturalmente subiti ma rappresentano comunque un sollievo per la nostra città. E questa mattina ha treviso il presidio regionale dei lavoratori della vigilanza privata tra le tante storie emersi e anche una vicentina. Prestavo servizio presso il pronto soccorso della città dove io opero una è saggitata, è entrata e ha incominciato ad aggredire. Per difendere il personale sanitario mi sono dovuto intromettere e io ho preso botte, 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 botte. E' finito in ospedale? Certamente con prognosi attesa, nessuna tutela su niente. Mauro Galdi lavora come vigilante e sta all'interno degli enti pubblici e spesso è stato vittima di aggressioni come quella raccontata. La sua è una delle tante storie emerse nel corso del presidio dei lavoratori della vigilanza privata in piazza delle istituzioni a Treviso. Poi c'è la testimonianza di Melania, mamma di due figli, presta servizio di sicurezza per il trasporto valori. Lavoro dalle 8 alle 10 ore al giorno, a volte anche 12, racconta. Non hai la possibilità di poterli accompagnare a scuola come non hai la possibilità di poterli andare a prendere a scuola perché sai quando inizi e non si sa mai quando si finisce. Lei, come gli altri colleghi, lamenta l'assenza di tutela sia sul fronte contrattuale che per quanto riguarda la sicurezza. Facciamo tante ore, non veniamo retribuiti per quello che dovrebbe essere e in più io ho grosse difficoltà per la conciliazione familiare. Un problema che purtroppo, oggi come oggi, non ci permette di vivere in pieno. Non siamo tutelati su nessun settore, nel senso che comunque anche quando trasportiamo i nostri valori e siamo in mezzo a una strada e abbiamo delle difficoltà anche con i mezzi, soprattutto con i furgoni, non siamo tutelati. Quando uscite al mattino o alla sera per iniziare il vostro turno di lavoro, qual è il primo pensiero che fate? A mia figlia, gli dico papà, non sa che ora rientra stasera. Ogni volta c'è un segno della croce, perché diciamo sempre speriamo di tornare a casa e di non avere problemi, di non avere sinistri e quant'altro. Torniamo a parlare di cronaca, farmaci veterinari abusivi, blitz, denassi in otto allevamenti del Vicentino. 25.000 euro di multe complessivamente scattate a seguito dei controlli dei Nassi in otto allevamenti del Vicentino nei comuni di Pozzo Leone, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello, Conteotto, Castelgomberto e Grisignano di Zocco. Controlli che si sono concentrati sulla provenienza e utilizzo di farmaci veterinari negli allevamenti di vacche da latte e sulla presenza di eventuali residui antibiotici nella produzione di latte crudo che potrebbero comportare gravi danni per la salute dei consumatori. Controlli in cui sono stati rilevati la fornitura e detenzione abusiva di farmaci veterinari in assenza di ricette veterinarie e di documentazione di provenienza che hanno comportato il sequestro di 50 confezioni di medicinali veterinari dal valore complessivo di 5.000 euro e la contestazione delle relative sanzioni amministrative per un valore complessivo di 25.000 euro. Si attendono gli esiti sui campionamenti di latte crudo per la verifica dei residui farmacologici. L'attività di controllo e contrasto all'utilizzo illecito di farmaci veterinari proseguirà anche in altre province. La cronaca ci porta ora a Montecchio Maggiore. Ancora una volta una truffa telefonica del falso incidente ma questa volta l'anziana non ci casca. È stata una 76enne a sventare una truffa telefonica. Ha raccontato ai carabinieri di Montecchio Maggiore di essere stata contattata al telefono da un uomo che si era presentato come il nipote residente in Svizzera. L'uomo aveva raccontato all'anziana di essere a Vicenza, di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale e di aver bisogno di denaro per risolvere la situazione che si era creata con l'assicurazione dell'auto scaduta. La donna che aveva avuto modo di confrontarsi con una conoscente sugli incontri svolti dall'arma dei carabinieri per la prevenzione delle truffe ha iniziato a fargli domande. L'uomo, capito di essere stato scoperto, ha interrotto subito la telefonata. Sono attualmente in corso le indagini per risalire l'identità del truffatore. Questo era l'ultimo servizio, ma prima di salutarci, vi ricordo che questa sera torna alla grande attualità, vista dal Veneto, ma soprattutto da Veneti con Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli. Questa sera Leopoldo Bottero, Valente Chiregato, Roberto Fava, Manuela Pagotto, Giorgio Pasetto, Francesco Pontelli, Massimo Scattolina, Antonella Tocchetto. Da Vicenza è tutto, vi lasciamo ora alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.